Il luogotenente di Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Fran Marco Luzzago, ha incontrato il decano del corpo diplomatico accreditato presso il sovrano Ordine di Malta, l'ambasciatore Antoine Zanga, in una cerimonia ristretta in sostituzione della tradizionale udienza di inizio anno. L'incontro, avvenuto nel Palazzo Magistrale dell'Ordine di Malta, ha offerto l'occasione per ripercorrere i momenti più significativi dell'anno passato, segnato dalla scomparsa dell'ottantesimo Gran Maestro, Fra Giacomo Dallatorre. Al centro del discorso di Fran Marco Luzzago, soprattutto l'impegno dell'Ordine di Malta nell'affrontare le sfide che la lotta al Covid ha imposto in tutto il mondo. L'Ordine di Malta è un'istituzione che ha una natura triplice, spirituale, umanitaria, assistenziale, medica e diplomatica. In ognuna di queste sue nature l'Ordine di Malta è stato impegnato nel fronteggiare la pandemia, che è una pandemia non soltanto virale, è una pandemia molteplice perché si manifesta sul piano medico, certamente, ma ha delle conseguenze che sono sociali, economiche e che vanno ad impattare sui più fragili. L'Ordine di Malta ha affrontato questa pandemia innanzitutto sul piano medico, con le proprie strutture, i propri ospedali. Ha operato nell'attività di prevenzione, sia con la popolazione che con una categoria che fa parte di una delle nostre priorità, che sono i migranti. Ha operato molto attivamente con una piattaforma digitale chiamata Doctors to Doctors, che mette in collegamento medici di paesi le cui strutture sono più fragili sul piano sanitario con medici dell'Ordine o affiliati all'Ordine che si trovano in Europa o anche in altri paesi. Non solo però a lotta alla pandemia, anche nel 2020 l'Ordine di Malta ha proseguito nei suoi impegni diplomatici, soprattutto in vista della Presidenza italiana del G20. Il 2020 non c'è dubbio abbia assorbito moltissime delle nostre energie con la pandemia, ma non ci siamo limitati a questo, abbiamo continuato la nostra attività diplomatica in varie direzioni. Quest'anno con la Presidenza italiana ci sarà un G20 delle religioni e l'Ordine di Malta ha già preso contatti sia con le amministrazioni italiane che con gli organizzatori per poter fornire il proprio contributo a questo importantissimo salto di qualità nell'impegno dei paesi e delle amministrazioni degli esteri, soprattutto nei temi religiosi e nell'impatto che questi hanno nelle relazioni internazionali.